Ehi la ciurma, sono Mezzetest e benvenuti in questo nuovissimo video, brevissimo, vi avviso soltanto che lui è il mio amico Marco88 e faremo una serie in co-op presto su Untarned, come potete vedere. DANGER! Ciao a tutti, sono Marco88, questo è il mio primo video co-op, beh, che dire, non vedo l'ora che inizi in questa cooperazione, ma nel frattempo godetevi quest'anteprima. Ciao ciao!